Dal 15 al 21 aprile sarà Serra Santabondio il comune interessato dal progetto 50x50 di Pesaro 2024 che rivedrà Capitale Italiana della Cultura per una settimana all'insegna della storia, della natura, degli eventi e del buon cibo. Noi abbiamo una serie di eventi di circa uno o due al giorno, culturali ovviamente. Il clou sarà nel weekend, ovviamente sabato e domenica, per citare i due eventi più importanti, forse con più pubblico, saranno il concerto con lingua anche l'IS, quindi un concerto d'opera a Fontavellana, il sabato sera. Quindi abbiamo la disposizione, un posto che ha una storia millenaria, fondato nel 982, quindi una sala bellissima dove poter ascoltare i cantanti d'opera della Super Opera Dream e soprattutto vederla anche tradotta in lingua di segni perché la sostenibilità è una delle nostre parole d'ordine ma anche l'inclusività, quindi abbiamo voluto fare una settimana della cultura dedicata a tutti le diversità che abbiamo a livello fisico e anche a livello diciamo culturale. Quindi un altro importante evento sarà domenica, poi si partirà alle 9 e mezza dalla frazione Petrara una camminata verso i pascoli dove per secoli hanno pascolato gli ovini, quindi capre e pecore e attualmente invece ci pascolano fra un mese i bovini, quindi la razza marchigiana. Prima di loro noi andremo e assisteremo a questo concerto dell'Orchestra Olimpia appunto all'aperto, sperando nel tempo clemente e quindi questo è anche un modo per simboleggiare la nostra natura verdeggiante che è una natura selvaggia perché è stata mantenuta in questo modo dai nostri nonni, i nostri bisnonni che l'hanno coltivata e amministrata per lasciare questa bellezza a noi e noi abbiamo il compito di ritrasmettere questa bellezza alle generazioni future, quindi sostenibilità, parola d'ordine, inclusività, cultura ovviamente e anche enogastronomia. Abbiamo lanciato le pencianelle deco che è un primo piatto tipico della nostra comunità che è fatta con due farine, una integrale e una bianca, sono dei maltagliati molto più grandi per capirci romboidali con sugo di fagiolo e salsiccia. Un piatto della tradizione povera che pian piano è stato migliorato perché per esempio nasce senza uova e adesso invece c'è una pasta all'uovo e poi adesso è diventato un piatto ricco che i turisti possono degustare nei nostri ristoranti e comprare anche le nostre attività. Fontavellana inizia la settimana di Serra Santaboglio e ci fa molto piacere perché è proprio la Fontavellana Serra Santaboglio che abbiamo fatto partire, questo giro di condivisione con tutti i comuni della provincia ha costruito zona per zona con gli amministratori, con gli artisti, con gli operatori culturali e turistici con un programma che per una settimana tiene insieme dalle rievocazioni storiche al trekking, alla musica antica, alla musica classica, al contemporaneo, fino alla fotografia e anche tutti gli elementi che costituiscono il racconto del territorio, l'ecomuseo dell'Appennino, insomma una comunità che si è preparata a raccontarsi al meglio senza dimenticare ovviamente gli aspetti legati al cosa c'è dopo, legati all'enogastronomia, alla promozione del territorio e anche i punti come le osterie e i bar come punto di racconto di un'esperienza che dura un anno, quindi un racconto lungo, articolato che permette diversi livelli di esperienza che chiaramente ha poi nel weekend un po' il suo culmine partecipativo ma che vive dai primi giorni anche di coinvolgimento delle scuole, di tutte le realtà vive che come anche in altra lezione, c'è la Santa Bogno e partecipano sempre in maniera molto attiva a tutto quello che riguarda la comunità, quindi siamo grati di questo programma e ci apprestiamo a viverlo con rinnovato entusiasmo. Grazie.